Se sei una malgacciona, cioè una donna tra i 40 e i 59 anni e vuoi sedurre, vuoi conquistare l'uomo della tua vita, segui queste indicazioni. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video e registrazioni, seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, se sei malgacciona e vuoi conquistare l'uomo della tua vita, segui queste indicazioni. Allora, quali sono le indicazioni che deve seguire una malgacciona? Allora, una malgacciona, cioè una donna tra i 39, tra i 40 e i 59 anni, deve seguire alcune indicazioni se vuole conquistare l'uomo della sua vita. Cioè, deve sfruttare al meglio i vantaggi, diciamo, della tra virgolette vecchiaia, insomma, poi non è che sia vecchia, però della maturità, diciamo così. Poi le malgaccioni dicono che ci dà della vecchia, no, diciamo, della donna matura, insomma. Allora, quali sono le priorità, quali sono i vantaggi, diciamo, che una donna matura ha? Beh, intanto, che dovrebbe avere? Il primo vantaggio che dovrebbe avere una donna matura su una donna più giovane è che non dovrebbe avere l'esigenza di maternità, perché si suppone che o sia già madre, diciamo così, oppure non essere fuori gioco, insomma. Ecco, questo deve farlo percepire, perché è più facile, diciamo così, conquistare un maschio, che sia un maschio, ovviamente non un toy boy, Sto parlando di un maschio, diciamo, coetaneo o al limite anche un po' più grande. Diciamo, il target della malgacciona dovrebbe essere dai 5 ai 10 anni di più il maschio, perché potrebbe avere un appeal migliore e potrebbe anche, diciamo, interessare molto di più il maschio. Andando su quelli più giovani ci possono essere poi problemi a lungo termine, insomma, è di altra natura, che adesso è un po' difficile, è un po' lungo spiegare, ma riassumendo, se una donna di, che ne so, di 45 anni, prendendo a metà, diciamo, più o meno, 45-50 anni, si mette con un uomo, che ne so, di 40-45, magari questo poi diviene ancora la velletà, no, di diventare padre, quindi non, non, e lei rischia, insomma, se vuole una relazione che sia una relazione per la vita, insomma, una relazione che sia a lungo termine. Ecco, quindi, secondo me, una donna di 40-40 anni dovrebbe andare a cercare un uomo di una cinquantina, insomma, più o meno questa dovrebbe essere l'età giusta, poi, e hanno più, hanno meno, sicuramente non il toy boy, di 25. Allora, per un rapporto duratura, poi per notte di musica e magia, vanno bene tutti, fondamentalmente. Allora, quindi, una volta stabilito questo target, perché il target è importante, e devi stabilire anche un target che non sia il catramista, diciamo, casa integrato da 50 anni, senza fissa dimora, ma dovresti trovarti un target di un maschio alfa, un maschio che, che sia comunque posizionato, che abbia sviluppato anche una sua, per così dire, capacità intellettuale, insomma, che abbia anche delle capacità intellettuali molto, molto valide, insomma, che sia un maschio alfa, quindi realizzato, che abbia capacità di conquista, capacità di, come dire, che sia appetibile, che sia attraente. Ecco, una volta che hai definito questo target, beh, devi presentarti e sfoggiare le tue carte, cioè mantenere viva la tua femminilità, cioè essere un prodotto confezionato bene, intanto. E anche un contenuto, cercare di conservarlo al meglio, non lasciarlo andare in putrefazione presto, perché poi la malgascione, certo, molte malgascione, diciamo, hanno un'abilità nel trucco e parrucco, però poi o vanno nella via plastichesca, cioè, vuol dire, vanno sulla via delle siliconate, delle siringate e vanno avanti di siringoni di plastica, nel senso che si fanno gonfiare tutto quello che c'è da gonfiare col silicone, ma questo non è seducente, non è un qualcosa che coinvolge, non è un qualcosa che seduce, perché comunque la plastica poi alla lunga lascia il, no, no, al tatto anche, non è il massimo. Quindi la malgascione dovrebbe non tenersi su con trucco e parrucco, ma dovrebbe, diciamo, cercare di conservare al più possibile anche la sua struttura, no, quindi attraverso una dieta equilibrata, senza scofanarsi vasetti di Nutella come se non ci fosse un domani, senza, insomma, e fare un'attività fisica, insomma, questo che ho già detto in altri video è fondamentale. Una volta che la malgasciona ha fatto questo, che è riuscita a fare questo, a sviluppare, diciamo, queste caratteristiche, quello che deve fare è interessante, no, deve non mettere vincoli logici, cioè non dire uh, voglio un maschio, uh, voglio qua, uh, voglio dieci figli anche se ho 50 anni, uh, voglio un matrimonio, no, perché il maschio subito lo metti in fuga, metti, entra dentro, diciamo così, con la psicologia inversa, cioè digli no, io non voglio nessuna storia, non voglio niente, guarda, abbiamo un'amicizia, frenzonalo, frenzonalo subito, una volta che l'hai frenzonato, beh, lui sentirà le esigenze in qualche modo, perché il maschio, soprattutto se è un maschio alfa, se hai scelto un target giusto, perché se hai scelto, ripeto, il cataramista, come dire, disoccupato, magari non ti darà queste caratteristiche, ma se hai scelto un maschio alfa, il maschio alfa vuole andare a caccia, è cacciatore per definizione, definizione, come dicevano le nostre nonne, l'uomo è cacciatore, ma è vero comunque, ha bisogno di questa sfida, ha bisogno di, e quindi se tu gli dici al maschio alfa, io te ti vedo solo come un amico, beh, questo inizia a ingrifarsi da un certo punto di vista, inizierà a cercarti, inizierà a desiderarti, ecco, quindi questo è un vantaggio dell'ammalgascione, e poi l'ammalgascione non deve assolutamente mettere in mezzo figli, cazzi e mazzi che potrebbero, diciamo, ostacolare, creare dei vincoli logici, quindi zero vincoli logici, però nel frattempo rendersi preziosa, alzare l'asticella, far intendere che ci sono fior fiore di maschi che ancora la vedono appetibile, che la vedono ancora attraente, e quindi, diciamo, generare tutta una serie di antagonisti, gli antagonisti per il maschio alfa ci vanno sempre, il maschio alfa tendenzialmente è alfa perché vive comunque la competizione con gli altri maschi, perché quando è che un maschio è alfa? E' quando il leader di, quando attrae le donne, ma anche quando è il leader di altri uomini, e quindi se tu gli dai l'opportunità di dimostrare di essere leader, di essere migliore di altri uomini conquistandoti, e beh, questo fa la differenza fondamentalmente, l'importante è che non metti vincoli logici, perché il vincolo logico, con la malgacciona, cioè, è come dire, il vincolo logico li mette anche la donna di 30, no? Che è quella, però la donna di 30 ha esigenze completamente diverse, magari vuole crearsi una famiglia, vuole, cioè, una femmina con figli, vuole avere una situazione diversa, invece la malgacciona potrebbe anche avere una relazione sempre concentrata, diciamo, sempre importante, ma magari senza convivenza, se non deve, se non ha queste pretese, ecco, un'altra cosa che deve avere la malgacciona fondamentale è quella di realizzarsi, essere una malgacciona realizzata da un punto di vista economico, perché se una malgacciona spiantata, beh, come dire, spiantata per spiantata, a meno di 30, non di 45, per dire, no? Cioè, ecco, deve essere realizzata e quindi avere una sua indipendenza, avere una sua disponibilità economica, non essere dipendente, questo è un altro grosso vantaggio che la malgacciona può sfruttare se vuole ottenere dei risultati, se vuole conquistare, da non sottovalutare questo fatto, perché è veramente importante se vuole realizzare queste situazioni. Bene, ti ricordo che veramente, segui queste strategie e vedrai che anche se sei malgacciona riuscirai a conquistare comunque. Per questo video voglio ricordarti di iscriverti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche ai nuovi video, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, pagina nella quale avrai possibilità di costruire nuove cose sicuramente interessanti, avere spunti interessanti e poi ti ricordo un'altra cosa importante che sul canale ci sono gli abbonamenti, ti puoi abbonare, ci sono tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezione mirata, abbonamento top, con lezione mirata e videoregistrazioni seminar del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. In più, se vuoi entrare gratuitamente a far parte della più grande community italiana e speriamo presto europea, diciamo, di amore, seduzione eccetera, iscriviti a tutti i miei canali Massimo Terramasco, crescita personale, amore, autostima, felicità, benessere e avrai tutta una serie di benefici gratuiti come ad esempio la possibilità di conoscere persone nuove. Ciao a tutti!